Ciao ragazzi, eccoci alla quattordicesima parte di Terzo Sinfonia Molto bene, nella scorsa parte abbiamo finalmente sbloccato il sigillo del vento e Colette ha fatto una rivelazione a Lloyd quello che sospettavamo già da tempo, cioè che comincia a perdere il controllo del proprio corpo non ha più sensazioni di nulla, non ha più fame, però gli si stanno accuendo i sensi ah, c'è una scritta da guardare, quindi ce la guardiamo comunque è successo più o meno questo e adesso dobbiamo tornare a Luwin, credo che se vi ricordate è la città che abbiamo visto due parti fa un po' Non è vero? Non ti preoccupare, ma non è vero il risultato del mondo. E' stato un uomo... è stato anche coloretti. Grazie a tutti. E' quello che aveva detto. Hmm... E' così. 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 E' unожалуйста. E' così. E' così. E' così. E' così. E' così. Sì, è la mia moglie di... come cavolo si chiama... di Dor... Scusate, questo bambino! Ah! Cosa! Scusate, Kralos! Corretto, è ok? Scusate, Farita! Sì! Scusate, questo bambino è molto difficile! Sì, è vero? Scusate, percivalo e provo! Scusate, per favore! Sì, ho capito. Scusate, tutti sono molto più freddo. Perchè? 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 Grazie. Allora, finalmente cominciamo a capirci. Perchè? 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 Eh? Esho po! Perchè? Nie. Poss Arctic for Assisi. Perchè? Jadazia to dobra 100,000,000. Perchè? Allarian damage from Israel. E' una strada di più. Perciò che i cittadini sono freddi e non li riusciti a vivere anche a un'altra parte. Sì. Sembra che solo i cittadini di vivere, voglio aiutare. Ah, il mio design! Scusate! Possiamo andare di qua? Un modo per farci capire che non possiamo tornare...non possiamo visitare niente? Ok... Il Campodesiano dove cavolo era? Era dall'altra parte. Si vede da qua. Devrebbe essere quello la di fronte a noi. Maledetto. Mostri permettendo, cerchiamo di arrivarci. Oh eccoci qua. Campo di Asgard. La solita musica ignobile. La sicurezza intensa. La situazione è tutta diversa dall'altra volta. Si anche se entriamo... Un modo si sarebbe. Prof scommetto che ha avuto la mia stessa idea. Cioè cosa vorresti dire? Non so se hanno avuto la stessa idea. Ci travestiremo da desiani e ci intrufoleremo. Vedo che le rotelline nella tua testa corrono solo in momenti come questo. Questo che significa? Ah ho capito che sembriamo dei desiani. Non ci cattureranno. Non mi sembra un piano eccezionale. Ma abbiamo altra scelta. Ah era la sua idea davvero. Io pensavo che dicesse che cavolo dici. Arriva la pattuglia dei desiani. Cosa facciamo? Ok. Nascondiamoci dietro quegli alberi per fare un imboscato. Quali alberi? Sistemiamo la faccenda. Ma sono due donzelle. Questo è facile. Perfetto! 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 Ci abbiamo messo anche troppo. Prima torniamo a lui. Non sappiamo quanto il nemico può scoprirci. Sì hai ragione. Finalmente è giunto il momento di infiltrarsi nel campo. Aspetta dobbiamo decidere chi si mette nei panni del desiano. Che cosa intende prof? Fra tutte le uniformi desiane che abbiamo ottenuto se ne può usare solo una. Gli altri dovranno fare la parte dei prigionieri. Io io lo faccio io il desiano. L'ho detto per primo. Non è mica un gioco. Eh. Ehi non è giusto prof. Eh sta meglio lei. Guarda che outfit che ha indosso. Non è questione di giustizia. Dobbiamo solo cercare di passare inosservati. Questa poi è un uniforme da donna. Eh esatto. Ti volevi mettere una roba del genere. Dove siamo in Final Fantasy XIV? Gli uomini hanno tutte quelle chiappe scoperte. Alt. Ci siamo riusciti. A fare che? Abbiamo trovato il criminale del cercato. Lloyd Yearlin. Ottimo lavoro. E l'avete preso vivo a Deltur. Lo voglio consegnare immediatamente ai 5 grammi di maestri. Fatemi passare. Capisco. Avanti. Non pensavo che ci cascassero. Ah usiamo Rain in versione Super Ultra Gnocch. Vediamo che c'è. Pelle d'animale. Ma possiamo parlare con loro? Fate lavorare gli organismi ospitanti fino allo sfidimento. Manteneteli in vita. Altrimenti le ex ospere non si sveglieranno. Ah questi qua stanno facendo così per... per togliere le ex ospere. Parliamo un po' con questi? Meglio che vi invitate al lavoro come previsto. Possiamo andare dentro. Ok vediamo che ci dice. Ottimo siete riusciti a catturare Lloyd. Non era riuscito neppure ai 5 gran maestri. Presto registrato il suo codice di identità nella sala comanda di là. Cosa è questo? Ah no questo. Scusate. Una bella cutscene. Buongiorno. E' un fabbricio di Exfere. Ma non è pure quello di prima. Ma non è proprio un fabbricio di Exfere? Allora, è un fabbricio di Exfere? E' proprio quello. Ecco questo? E' un fabbricio di Exfere? E' davvero carico! Ti sento che c'è una cosa che non mi sento mai... Non... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sì, voi sono... Vabbè! Questi sono dei design di Torietto! Sì, credo che ancora di me è design? Ma, Vota, questo è un coltivo! Chi va? Aspetta, Kratos. Sì, questo è il Sirizogno. Sì, questo è il Sirizogno. Ma... Sì, sì. Sì, sì. Si sa che ci conoscevano da prima. Figuratevi se è come ha detto lui. Sì, ma le fate scappare... ...le chiamano aiuto. Oh oh! Voi, ovulio! No mi sonoanya di più? No! Qui, vissi! Voi! Non di tutto! L'abbiamo a tutti! Voi. Sì, vieni più a la mia! Sì, vieni mai. Oh, questo mi ha piaciuto. Nesumi, come si diceva, come si diceva Renegade, come si diceva, come si diceva, come si diceva, come si diceva. Ma... tu sei un uomo? Che cosa vuoi dire? Tu sei sempre, Royd? Eh... Tu... In effetti, poi, non è che dobbiamo essere educati in questo momento. Ah, uno dei cinque. Ah, ahahah. Sì, come se non mi ha detto, ma... ... ... ... Attenzione. ... ... ... ... E' la mia esperienza che abbiamo creato il XPR Attenzione E' agile? Buono, Colette! Tutti presto! Sai che cosa è questo progetto Angelus? Ah ok, siamo liberi di andare tunica bianca, guarda un attimo che cos'è ok ah niente di che ragazzi, qua si passa è il momento di perdere tempo vabbè affrontiamoli, tanto non è che sembrano fortissimi si è facile sfrutta vabbè non ci sfrutta ma non ci sfrutta non ci sfruttiamo cerchiamo di fare delle parte un po' più forte una volta ogni tanto, non dico molto poi dobbiamo fare delle parte Sicuramente ragazzi è un gioco di ruolo, non è che posso fare parti da 10 minuti, se no il gameplay mi dura 200.000 parti. Ok, lì c'è un bel salvataggio, però prima frontiamo questo. Ok, salviamo. Ok ragazzi, procediamo, aspetta un attimo di qua, non c'è niente, vero? No, dobbiamo procedere per forza di là. Ecco, voglio andare di qua, levati. Il bracciale di ferro, beh dopo ci guardo. Che cavolo fanno? Li imbustano in quelle sfere? Cioè in quei cubi lì, in quei cilindri? Ho capito. Biota in un'immagine. Eccsphia è stato riuscita. Ma se che... Eccsphia è stato per essere di un corpo di loro? Non è un po' diverso. Eccsphia è stato riuscita nel momento del tempo. Eccsphia è stato riuscita. Non è vero! Il pezzo di pensiero è un progetto di creare di creare X-Fia. Se non ci sia, cosa che ci sia piaciuto e farà il tercino? È... È vero! È vero! È vero! È vero! È vero! È vero che abbiamo agito di creare X-Fia e ci sono le loro che usano di usare. Ok, è tempo di combattere. La fortuna che abbiamo salvato così in caso... Non riesco neanche più a contare la volta che hanno usato Yggdrasil come nome per qualcosa giapponese. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa che mi piace. E' un'altra cosa che mi ha fatto. E' un'altra cosa che mi ha fatto. E' un'altra cosa che mi ha fatto. Parla di sua madre? E' un'altra cosa che mi ha fatto. E' un'altra cosa che mi ha fatto. E' un'altra cosa che mi ha fatto. Adiloyd. Attenzione. Suo padre ha ucciso sua madre. questo non lo sapevo proprio esatto perché senza castone gli umani diventano mostri non è un personaggio che non è vero non è vero bastardo mamma mia dai facciamogli il culo ah è arrivata Shida non lo so non lo so la prima cosa lo so vivereai quindi non possiamo più usufruire dal suo guardiano no lo volevo uccidere volete l'ha presa arrivi e E' un'altra parte molto interessante, ragazzi. Grazie. E' una cosa così, ma... Che cosa farei? Un'altra parte... Ruin. E' bene. Sì E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! Guarda, Roydo! E' un'altra cosa? Questo X-Fear è anche la vita di Roydo. E' un'altra cosa! E' un altro, che si fai Hunger per il tempo, per quanto non ci si esano, io ero' in una russa? E' la cosa! E' un'altra cosa? E' un'altra cosa, E' un'altra cosa, ma mia non può restare questo? E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! E' un'altra cosa che ci sipte questo! E' un'altra cosa, Ma questo ... l'Xperia aveva chi lo sollo che s'è successo qua. Che cosa si? Giuseppe la pena di essere di ripartirata e la pena di essere di ripartirata, ma non è che volesse a buttare Xperia e di non sobrire la cosa che rendere. Ma, non mi perdono da Xperia, quindi non mi mangiare il problema. Ma, ma cosa mi èạ? Beh, quando non mi perdono Xperia, mi sembrava qui diventa la Dizaiore. Grazie. Grazie. اسce,いや, sao fail you so , eli us all game through it Some living beings are their dreamy island long therefore if their lives are to keep the lifeoger by the various worlds, we will fail long to live with peace assurance would make them sword!!! You can't beiciosom for yourself, but Vai exENDism ur various sacrifices That's an unlike the people when it was extended No, non mi sento? Non mi sento? Non mi sento ancora non mi sento. Non mi sento? Cosa cosa? Certo, ringrazio. Ah, ti ho avuto a te. No, non. E' un po' di D-Zaino! E' un po' di D-Zaino! E' un po' di te. E' un po' di te. Grazie. E' un po' di D-Zaino. E' un po' di D-Zaino. Finchè c'hai rotto le balle, avevi quei cavolo di guardiani. Adesso che ci sei, non ce l'hai più. Ok, molto bene. Io direi ai ragazzi che questa parte la faccio chiudere qua. E' stata una parte molto interessante. Vedete quello che mi piace a me dei Tales of. Che la loro trama è bella per questo. Non è mai quello che sembra. Vi consiglio comunque di recuperarveli un po' tutti. Perché hanno comunque tutti questi... Queste cose particolari nella storia. Ci guardiamo all'ultimo scritto ragazzi. Poi chiudo la parte. E' per questo? E' per questo? Eh... E' oltremmo... Non so. Com'è bene? Se una si è giudicato, io che ti aiuto! Grazie. Va bene ragazzi, io chiudo qua la parte. Come al solito vi ringrazio per avermi seguito. Vi do appuntamento con la prossima parte di Tales of Symphony. Ciao a tutti ragazzi!